Buongiorno a tutti, oggi mi ero preparato la mia bella scalettina con le cinque partite di ieri, con lo sci, invece notizia bomba, due esoneri in serie A, uno l'avevo già accennato ieri dopo la partita tra Sassuolo e Verona, che Bucchi rischiava, infatti è stato esonerato al suo posto Iachini, però c'è anche l'esonero di Montella. Esonero di Montella con Rino Gattuso che prenderà il suo posto, l'allenatore del under 16 del Milan che prenderà il posto di Gattuso, vedremo se è colpa dell'allenatore nelle prossime partite, se era colpa dell'allenatore nelle prossime partite o se effettivamente la squadra è quella, almeno non ci sono più scusanti. Chiuso il capitolo esoneri, pensiamo alle partite che si sono svolte ieri. Ieri punteggi abbastanza clamorosi, perché comunque il Napoli che ci si aspettava facesse una passeggiatina tranquilla con due o tre gol di scarto a Udine ha vinto col minimo sforzo e Giorginio a momenti sbaglia anche il rigore, anzi l'ha sbagliato, poi è stato bravo a riprenderla, a metterla dentro, perché se no poteva finire anche 0-0. La Roma, zitta zitta, stava vincendo una 0 a Genova, facendo comunque una grossa fatica, bravissimo il Sharawi, un gol alla Icardi, spero non si offenda, ma ha ricordato il primo gol di Icardi al Milan, stesso movimento, stesso inserimento, stesso tocco morbido a incrociare nell'angolino, ma d'altronde è uno dei tanti ragazzi su cui dovremmo rifondare la nostra nazionale, lui, Chiesa, di cui parlerò dopo, e tanti altri. E poi c'è sto schiaffone, c'è la VAR che dota lo schiaffone, rigore ineccepibile, non c'è nulla da dire. E due punti buttati per la Roma, perché è un calcio di rigore per il Genova, espulsione di De Rossi, uno a uno, e poi hanno sempre sta sfortuna di prendere i pali, perché anche ieri ne hanno preso uno con Stratman, anche da pochi passi, sfortunati, e c'è poco da fare. Però si dice che la fortuna aiuta gli audaci, o sono sfortunati o non sono audaci. Comunque la Roma gioca sicuramente bene, tra le quattro candidate allo scudetto ci resta, anche perché vedendo le quote SNAI, Napoli favorito, dietro la Juve, poi l'Inter e la Roma, lì vicine, l'Inter è pagata 8, la Roma 10, forse dopo il pareggio andrà a 11 o 12, le altre sono tutte lontanissime, secondo le quote SNAI, ripeto. Poi c'è stata Lazio-Fiorentina, Lazio-Fiorentina, la Lazio stava vincendo, bellissimo gol di testa di De Vrij, che in mezzo a tre difensori riesce a svettare su tutti e metterla nell'incrocio, e poi c'è la VAR, c'è poco da fare, fallo in area, calcio di rigore ineccepibile anche lì, meglio così, perché se no, se non ci fosse stata la VAR, avremmo avuto, ma probabilmente, due ore di trasmissione sportiva, di cui per un'ora 59 minuti e 59 secondi parlavano solo degli episodi che sono successi, così si evita, si parla di calcio, non ci possono essere polemiche, perché comunque sono episodi chiari, limpidi e la parissiani. E infine, l'ultima partita, no, ve le ho dette tutte, Milan-Torino, Genova-Roma, Udinese-Napoli e Lazio-Fiorentina. I miei pronostici stranamente ho sbagliato solo gli over, perché per il resto ho sbagliato solo Lazio-Fiorentina, al 48esimo del secondo tempo, perché avevo messo l'1 fisso, Udinese-Napoli ho messo il 2 fisso e l'avrei preso, Genova-Roma-Is 2 l'avrei presa, Milan-Torino mi ero rischiato l'Is fisso e l'ho preso, quindi stranamente ci ho azzeccato, stranamente. Poi vabbè, alla sera c'è stata Juventus-Crotone e l'unica sorpresa è stata che la Juve ha segnato solo al settimo del secondo tempo, ma al primo tempo veramente è stata una partita a senso unico, in cui le occasioni ci sono state, Kordas ha fatto qualche buona parata, qualche altro tiro uscito di pochi centimetri, ma si sapeva, c'era troppa disparità tra le due squadre, quindi 3-0 finale, ha segnato De Sciglio, ha segnato Benatia, ha il primo gol di Mandzukic, chiuso il discorso e settimana prossima Napoli-Juve, c'è poco da fare, e poi vedremo, ne parleremo poi più avanti. Veniamo allo sci, Super G maschile, Super G maschile che ha visto la vittoria di Jansrud davanti a Mass France, terzo Reichelt, quarto Kilde e quinto Swindal, quindi praticamente tre norvegesi e due austriaci. Dietro i campionissimi, diciamo, i nostri italiani, che comunque sesto in Nerofer, settimo pari, sottavo fil, si sono difesi bene, io sentivo i cronisti, una giornata negativa, eccetera. Signori, non è che i nostri possono sempre arrivare sul podio, essere comunque nei primi dieci con i nostri tre moschettieri, chiamiamoli così, dietro a questi cinque che sono forti e comunque a un solo secondo di distanza, vedendo poi quello che è successo nello slalom con la Shiffrin, di cui adesso andrò a parlare, è un buon risultato, secondo me, poi magari la Morandini, eccetera, sono più cattivelli, diciamo, e pretendono magari che almeno uno dei nostri arrivi sempre sul podio, magari al primo posto. Io sono ben felice di come sono andati i nostri super gigantisti, che poi sono anche i nostri discesisti, vedendo anche quello che è successo ieri, visto che ieri solo Peterfield è arrivato quarto e gli altri due è meglio solvorare. Dominic Paris aveva detto quindicesimo, invece è arrivato sedicesimo, ma cambia poco, e Nerofer è arrivato dopo il ventesimo posto, quindi un buon sesto posto oggi è tanta roba. Mi sono fatto i miei appuntini, quindi adesso c'è lo slalom femminile. Slalom femminile che ormai ha una sola dominatrice, è un mostro, cioè ha perso la prima gara, se non ricordo male, contro la Blova, e oggi ha fatto il vuoto. Prima nella prima manche, prima nella seconda manche, un secondo e 64 sulla Blova, che è arrivata seconda, e due secondi e 67 sulla Schilt, che è arrivata terza. Cioè, un mostro, bellissima, mostro in senso sportivo, perché la Schifrin è anche una bellissima ragazza, quindi niente da dire, e se si intende il continuare fino ai 30 anni a sciare, se non di più, questa arriva a 100 vittorie in Coppa del Mondo, una cosa irraggiungibile proprio, perché in slalom o cade, o è lì, è sempre prima, seconda, prima, seconda, prima, seconda. In gigante, più o meno, anche se non è forte come in slalom, è tra sempre le prime cinque, tranquillamente, per non dire le prime tre, quindi comunque una gara dominata da lei, bene le nostre italiane, devo dire, Manuelina Molga era decima dopo la prima manche, purtroppo è caduta ed è caduta anche male, meno male si è rialzata, non dovrebbe essere niente di grave, solo una bottarella sulla schiena, spero. Irene Curtoni, dopo la prima manche, era dodicesima, è arrivata dodicesima, brava la chiarina Costazza, che dalla quindicesima posizione è riuscita a risalire all'ottava posizione, quindi buona prova di Chiaretta, anche se il distacco 3 secondi e 60 è veramente una cosa terribile, però si sa, hai davanti un mostro e quindi mostro sportivo sempre, perché è veramente nata per sciare, come direbbe Born to Sky, no, non so se è giusto Born to Sky, però è fortissima la scifra, fortissima, bellissima e la sfida a Lavonne è aperta, vedremo cosa succederà. Bene, chiudo che ho parlato un po' troppo e ci vediamo domani, domani parleremo della Coppa Italia e del posticipo di questa sera, che vabbè è Atalanta-Benevento, vedremo se il Benevento riesce a fare un punto, ma la vedo molto dura. Ciao ragazzi!